Musica Perché si esclude a priori l'ipotesi di un intervento extraterrestre sulla costruzione delle piramidi di Gizzo? No, perché? Vista la grande fattura di queste piramidi? No, perché? Why? Why do you believe that? Piramidi? Perfette, Cheope, Quefriend, Michelin. Perché? Dopo sono discasse da tutti e anche me solo con le tre piramidi. Dobbiamo continuare un po' con le firme, professore. Questa è un progetto che l'arommo. La ultima verità non lo ha detto, è un progetto di un po' con le firme. Allora è un progetto della pubblica, ci sono un progetto di un po' con i primi, ah, che si si sono facili, ci sono una abitazione dell'arommo. Il progetto di un progetto di un paese. È un progetto del canale. E quindi se è verificato, la figura all'arommo di un po' con il troppo, è un progetto di un progetto di un anche infrastruttura dell'arommo. Allora, i miei cammi sono un progetto nazionale del popolo egiziano, vengono le domande dei fattori, è un progetto nazionale del popolo, ovviamente come ci vedete, ci sarebbe sempre un sottotitore di gamba. Grazie, grazie per la discussione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.